Bolletta da record per una ristoratrice padovana che si è vista recapitare dall'Enel 24.000 euro di riconteggi di fornitura elettrica, ora rischia la chiusura. Allerta incendi della protezione civile coinvolge il parco Colli e l'appello del presidente dell'Ente, evitate comportamenti rischiosi e anche le grigliate. Il sindaco di Vigo 9 emana un'ordinanza che evita il bagno e i tuffi nell'idrovia, già tra i salvataggi di giovani a oggi, non si può più rischiare. Dopo un'estate di polemiche riapre il traffico privato da lunedì il cavalcavia a Borgomagno, trovate una soluzione per non stressare il ponte. Due feriti a Piombino d'Ese per un'auto finita contro un palo, un motociclista ferito dopo uno schianto stamattina all'oreggia il bilancio di due incidenti nell'Alta Padovana. Articoli di bigiotteria con certificazioni illegali scoperti in un capannone della zona industriale a Padova, oltre un milione di pezzi sequestrati dalla finanza. Presentata questa mattina la nuova passerella ciclopedonale sul Piume Brenta a Fontaniva. Buongiorno e benvenuti al TG di Telenordeste. Abbiamo questa edizione con una storia che ci arriva da Padova, dove una ristoratrice si è vista recapitare una bolletta da capogiro. Ma ci racconta tutto Francesco Ratai che è sul posto. Sì, buongiorno da Padova. Siamo alla trattoria isoletta e con me c'è la signora Patrizia che di questo storico locale, perché sono 34 anni che si trova nel centro di Padova, diciamo di questo storico locale è la titolare. Siamo qui con lei non perché è ora di pranzo e perché siamo venuti a mangiare, ma perché c'è una storia da raccontare. Una storia che pensavamo di non dover più raccontare. Stiamo tornando a parlare di quelle che sono le cosiddette bollette pazze, perché alla signora Patrizia e al suo fratello che è contitolare di questa attività è arrivata una bolletta che adesso ve la faccio vedere da quasi 24 mila euro. una cosa che sicuramente voi non vi aspettavate. Assolutamente no, è stato un fulmine a ciel sereno proprio, anche perché avendo comunque continuato con i nostri pagamenti normalissimi, bimestrali, non pensavamo proprio che ci potesse arrivare una sorpresa del genere. Sorpresa non tra l'altro da parte dell'Enel, nemmeno una risposta a una PEC, nemmeno il nulla cosmico. E voi quanto eravate abituati a pagare solitamente? Mille, mille e tre nel periodo estivo con i condizionatori accesi, quelle erano le cifre che abbiamo sempre elargito all'Enel. Voi vi siete presentati all'Enel e cosa vi hanno risposto? Beh, io mi sono presentata all'Enel con la bolletta, chiedendo spiegazioni e la signora allo sportello mi ha detto che l'unica cosa che possiamo fare noi è rateizzare la sua bolletta. e ho chiesto spiegazioni in vano perché non ho ricevuto niente, che è un conguaglio e basta. Infatti qua si leggono le varie voci, si parla di ricalcoli e conguagli. Questa è una bolletta che può seriamente mettere in difficoltà un'attività che rischia, speriamo di no, di chiudere. No, si rischia sì con una cifra del genere. È improponibile. Non abbiamo un locale da 200 posti a sedere, è un locale da 40 posti a sedere con dei menu da 13 euro a pranzo perché facciamo il menu a prezzo fisso. Si spende qualcosina in più alla sera ma per arrivare ad ammortizzare una cifra del genere, sinceramente... Ecco, la ricordiamo, 23.571,56 fa abbastanza impressione anche da vedere graficamente. Voi vi siete affidata ad un'associazione di consumatori che cosa vi hanno detto? Sì, mi sono affidata all'associazione del signor Paccaniella per capire se si riesce a riqualificare quantomeno questi conteggi che mi giungono veramente sconosciuti. Vediamo un attimo, credo si stiano dando molto da fare, cerchiamo di capirci qualcosa. Infatti uno dei temi è che si fa fatica a capire cosa bisogna pagare proprio perché i conteggi non sono chiari. Voi quando c'è stato il cambio, l'aumento delle bollette ne avete risentito? Certo, certo, certo. Anche lì c'è stato un aumento? Certo, che abbiamo sempre retribuito all'ente. E quantificandolo quant'era? L'aumento per quello che ci riguarda è intorno al 15-20% in più di quello che si pagava. Quindi un aumento visibile ma sostenibile. Certo, certo. Anche l'entusiasmo per lavorare e poi ci troviamo con le spalle al muro senza poter reagire in queste situazioni. Vengono vanificati tutti i sacrifici che vengono fatti. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Francesco Ratai, la sua ospite, per questa vicenda. Ovviamente vi racconteremo come andrà a finire. Adesso cambiamo decisamente argomento. Passiamo al rischio incendi sui Colli Uganei. Il caldo torrido, le piogge che mancano da settimane, i Colli Uganei rischiano di essere in questi giorni uno dei luoghi più a rischio di incendi date le condizioni meteo straordinarie. La direzione della protezione civile regionale, viste le premesse e lo stato della vegetazione, nelle scorse ore ha così dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per alcune zone delle province di Padova e Rovigo. L'area del parco Colli rientra tra queste con i comuni di Abano Terme, Arquapetrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese, Santa Croce, Cinte Uganeo, Este, Galzignano, Lozzo a Testino, Monserice, Montegrotto, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo. In allerta i gruppi antincendio boschivi e anche le 15 guardie ecologiche volontarie del parco Colli che sorvegliano a turno i diversi punti del parco e hanno potere di sanzionare chi non rispetta le regole. Dal presidente dell'ente Alessandro Frizzarin l'invita ad evitare comportamenti a rischio da parte di chi in questi giorni frequenta i Colli per qualche gita o escursione. Di evitare in qualsiasi modo di tenere dei comportamenti scorretti come potrebbero essere quelli di accendere fuochi anche per fare le grigliate. Adesso è un periodo di festa, la gente è ancora in ferie e quindi sia volontariamente sia anche inalettitamente di stare attenti a qualsiasi contegno che possa anche minimamente creare questa problematica. Ci vuole davvero poco per provocare danni ingenti, basta anche solo un mozzicone di sigaretta che con il sottobosco di starpaglie secche e le alte temperature rischia di far divampare incendi di vaste dimensioni con conseguenze gravi per la flora e la fauna di un sito che vuole candidarsi a Biosfera Unesc che proprio lunedì firmerà il dossier da allegare alla candidatura mondiale. Un altro problema legato al caldo di questi giorni è la volontà di molte persone di rinfrescarsi senza prestare attenzione a dove ci si tuffa perché ci sono posti anche piuttosto pericolosi. Sentite questa notizia che ci arriva dall'Idrovia. A Vigonovo vietata la bagnazione nell'Idrovia del Comune a decidere il Sindaco con un'ordinanza in fase di preparazione. Mostrare lì quanto abili sia a tuffarsi è veramente da pivelli perché non si sa dove si cade lì dentro. Episodi nuovi perché non era così tipico che l'Idrovia per qualcuno potesse sembrare uno specchio d'acqua dove fare il bagno. Attualmente invece agli occhi delle nuove generazioni può sembrare uno spazio in cui valga la pena fare un tuffo. Soltanto la settimana scorsa il dramma per la morte da negamento nel lago morto di Vittorio Veneto di Andrei Boicenco, il ventenne di origine russa di Mestre, la cui caduta dal materassino è stata fatale. Il Sindaco di Vigonovo si dice preoccupato per le conseguenze che possano avere questi comportamenti, specie nelle acque di laghi e fiumi, che risultano essere a rischio soprattutto da parte dei ragazzi. Perché i laghi non è l'unico lago morto dove ci siano particolari movimenti d'acqua effettivamente che possono indurre sottovalutazioni per chi non lo sa, come esattamente dice lei, come vale per i laghi, anche per stagni e idrovie così grandi, non sono stati costruiti per essere baleabili. Questo è il principio. Già tre ad oggi soccorsi effettuati con i vigili del fuoco, anche con l'elicottero lungo il Brenta, nei pressi delle chiuse, sempre a Vigonovo, per mettere in salvo altrettanti ragazzi. Sono spesso ragazzi che vengono da fuori comune, quindi davvero non sanno cosa sia il Brenta e le chiuse, per esempio, sono stati recuperati con l'elicottero tre volte nell'ultimo anno, dei ragazzi nel mezzo del fiume Brenta. Cambiamo ancora argomento, torniamo a Padova perché riapre il cavalcavia Borgomagno. I lavori sono in fase di completamento e così come era stato annunciato ad inizio luglio, entro lunedì il cavalcavia Borgomagno riaprirà il traffico privato verso l'Arcella. Si stanno ultimando, infatti, i lavori di sistemazione della carreggiata e ieri è stata pubblicata l'ordinanza che esituisce i nuovi provvedimenti di viabilità sulla rampa in direzione nord. Una soluzione a cui si è arrivati dopo un lungo confronto tra l'amministrazione comunale e i vari comitati che erano sorti dopo la chiusura del cavalcavia e che tanto aveva fatto discutere. La nuova viabilità prevede una nuova corsia preferenziale affiancata alla corsia delle auto nel tratto che dalla rotonda di via Codalunga arriva fino a quasi al semaforo in cui il traffico si interseca con la linea del tram. Una soluzione ultimale per far convivere traffico privato e trasporto pubblico senza andare a discapito del secondo. Questa soluzione, presa in seguito all'impegno con la consulta e con i cittadini e dopo un'attenta analisi della situazione, ci permette di contemperare diverse esigenze senza dover intervenire con il rifacimento totale della corsia ovest che avrebbe un costo troppo levato per un ponte che comunque è destinato a essere completamente ricostruito con l'arrivo dell'alta velocità, ha spiegato l'assessore alla mobilità Andrea Aragona. Per realizzare la preferenziale è stata spostata la pista ciclabile. L'intervento, realizzato nelle scorse settimane, è costato circa 50.000 euro. Arrivano manutenzioni stradali in città, ecco quali. I cantieri sono aperti in diverse zone della città. In via San Francesco, nel tratto terminale dall'incrocio con via del Santo fino alle riviere, fino al 10-12 settembre continueranno le operazioni di poso dei cubetti in porfido per un costo totale di circa 80.000 euro per ripristinare il manto dopo i lavori di realizzazione dei sottoservizi che avevano lasciato il fondo sconnesso. In settimana si concluderanno anche i lavori di manutenzione della pavimentazione in porfido davanti alla chiesa di Salboro e dei ciottoli lungo Ponte Molino e vicolo Ponte Molino. Interventi di asfaltatura sono in corso anche nelle zone extra corsie del tram per un importo di circa 50.000 euro. La settimana prossima, in corrispondenza dei lavori di spostamento delle linee del gas per il SIR3 al ponte di Voltavarozzo, sono previsti lavori di impermeabilizzazione di asfaltatura della corsia nord in direzione entrata in città. Un'ulteriore tranche di lavori sarà avviata in autunno con un investimento di circa un milione di euro. Alcuni di questi interventi sono frutto della segnalazione dei cittadini, sottolinea il vice sindaco Andrea Michalizzi, che spiega La app Cittadini Attivi è molto utilizzata e anche se certe volte non c'è un riscontro immediato alla segnalazione, noi leggiamo tutte le informazioni che arrivano e le teniamo in considerazione. Passiamo alla cronaca, perché questa mattina un motociclista è rimasto seriamente ferito in un incidente via Ronchi Basse, seconda all'Oreggia in un incidente, mentre stava effettuando il sorpasso di un'auto che però stava facendo una svolta a sinistra. Il motociclista è stato portato in ospedale per le cure, fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale del campo a San Pierese è di due feriti invece, uno di questi grave, il bilancio di un incidente è avvenuto nella notte a Piombino d'Ese, dove un atto si è scantato contro un palo. Ora ci spostiamo in montagna per un'anziana padovana che si era persa. L'allarme è scattato intorno alle 22.20 di ieri sera, quando alla centrale del SUEM è arrivata la richiesta di soccorso per una donna di 80 anni di Padova in vacanza a Pescul di Selva di Cadore, che dopo la consuleta passeggiata pomeridiana nei boschi non era più rientrata. Sono subito partite le ricerche. In campo gli uomini del soccorso alpino delle stazioni di Val di Zoldo e Alleghe, che verso le 13 di oggi l'hanno ritrovata non lontano dal torrente Fiorentina, sotto Santa Fosca. Seppur disorientata, l'anziana è stata trovata in buone condizioni. Un milione di pezzi di bigiotteria sequestrati a Padova. Sequestro di oltre 1,2 milioni di articoli di bigiotteria che presentavano un'errata etichettatura relativa alla presenza di nickel. Operazione dei Baschi Verdi della Finanza di Padova che ha permesso di individuare un'azienda operante nella zona industriale della città del Santo che vendeva collane, bracciali e orecchini. I militari hanno accertato che le etichette erano state messe in modo arbitrario senza effettuare i test previsti per garantire la veridicità di quanto riportato. Il controllo dei locali usati come magazzino ha permesso di scovare e sequestrare un ingente quantitativo di bigiotteria che non aveva la corretta documentazione relativa alla provenienza. Ci arriva proprio ora un aggiornamento della vicenda con cui abbiamo aperto questa edizione del telegiornale. Torniamo a Padova per dare la linea a Francesco Ratai. Sì, vi richiediamo la linea perché nei brevi momenti in cui ve l'abbiamo restituita alla signora Patrizia è arrivata una telefonata proprio dell'Enel che annunciava cosa? Che verrà temporaneamente sospesa la pratica per avere un ricalcolo della bolletta in sostanza da parte loro. Quindi c'è da augurarsi che questo ricalcolo sia un po' più basso, ben più basso di questo 23.571 Euro che vediamo nella bolletta. Questo vi dovevamo, restituisco la linea allo studio. Allora avete visto come cambiano rapidamente le cose? Intanto bene così poi vi racconteremo come andrà a finire. Adesso ci spostiamo a Fontaniva per la presentazione di un importante lavoro. Un'opera che la comunità di Fontaniva attendeva da più di vent'anni. Finalmente, ora dopo un lungo e travagliato iter tecnico e amministrativo, il progetto definitivo ha ottenuto il sì di tutti i soggetti in campo, Comune, Soprintendenza e Anas. Ed ecco dunque come sarà la passerella ciclopedonale sul Brenta lungo la strada statale 53, posizionata sul lato sud del ponte. 15 campate da 33 metri e mezzo ciascuna per un totale di circa mezzo chilometro di lunghezza realizzata in Corten. Sarà una passerella nuova, completamente diversa rispetto a quella prevista dal precedente progetto. Sarà più lineare, più semplice, ma soprattutto sarà svincolata dalla ponte esistente. Nel precedente progetto era previsto che la passerella venisse incastrata nel ponte che già esiste, nei pulvini del ponte esistente, invece in questo caso sarà separata da dei dissipatori sismici che consentiranno di avere una maggiore sicurezza in caso di terremoto. Un intertravagliato si diceva che aveva visto l'affidamento a lavori nel 2019, l'apertura dei cantieri nel 2020 e il successivo stop. I problemi incontrati inizialmente erano relativi alla disponibilità delle aree, alle autorizzazioni paesaggistiche, ma soprattutto allo schema strutturale che era stato adottato e che poi è stato contestato appunto dall'ente proprietario dei piloni che è ANAS. L'avvio lavori è previsto già tra qualche giorno all'inizio di settembre, il termine tra circa otto mesi, una passerella importante non solo per i cittadini di Fontaniva. È un'opera che non investe solo il nostro territorio Fontaniva, ma è un'opera per tutto il territorio, un'opera che mette in collegamento, in correlazione l'est e l'ovest del fiume Brenta, quindi Fontaniva, Cittadella con Carmignano e la parte nord-sud attraverso la ciclopedonale che dal lago di Camazzola porta a Piazzola sul Brenta e a Vigo d'Arzare, quindi un'opera per il territorio. Il caldo potrebbe lasciare spazio fra qualche giorno a temperature decisamente più accettabili, ma vediamo che tempo farà nel fine settimana. La situazione finalmente ma lentamente va cambiando, anche se permane una bolla di calore che mantiene temperature piuttosto alte, anzi molto alte, su tutte le nostre zone. Vedete dalla carta del tempo, si prospetta, diciamo già sull'Atlantica e sull'Europa occidentale, la presenza di un sistema perturbato e di linee di stabilità che dovrebbero interessarci poi a iniziare da domenica pomeriggio. Quindi più in dettaglio prevediamo ancora domani una situazione di tempo soleggiato, quindi tempo stabile. Per domenica, prima parte, ancora nulla cambia. Poi nella seconda parte, ecco il sistema perturbato, ecco quindi le precipitazioni, anche a carattere temporalesche, che potranno essere intense, soprattutto tra domenica notte e lunedì. Martedì ancora in stabilità e poi il tempo dovrebbe continuare con un'estate più piacevole. I venti intanto per questi due giorni saranno deboli, con rinforzi poi anche intensi da domenica a notte. Le temperature, ecco le minime 22-23 gradi, poi tenderanno a calare da domenica e da lunedì. Le massime ben oltre 30-32-33 gradi, ma da lunedì, ecco, per dare un messaggio di speranza, dovremmo arrivare a 23-24 gradi. L'alta triadica è previsto da poco mosso, localmente mosso, più l'ora. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.